Come è previsto, molto combattuta, l'ultimo è una squadra molto fisica, molto energica, a me è una squadra molto organizzata, ma molto aggressiva, alta di testa del Benedetto, che sovrasca neccamente il Giorvino dei Stefanini. Allora è ancora del Benedetto, apre sulla sinistra per Arrumento, troppo lungo, Pallari conosce direttamente il Giorgio, per Anglani, Anglani lungo a cercare Pozzi, il Benedetto in qualche modo rinvia, dall'altra parte c'è Radicchio, quando può passare Anglani, Pallari sta finendo il palo laterale, così è rimessa per Altamora. Abbiamo fatto i Cavaliere, un po' a cercare... Castoro, pallone a Pozzi, pallo laterale per Altamora. Batte, Cavaliere, Aloisio, Pazza e Giorgi, Bozzi Bozzi esce il portiere, non anticipa. Poi c'è Agniri, fermato, Papi, Anglani, fallo su Anglani, punizione per il Mendoza, Pazza e Giorgi lo sta sostituendo veramente bene.